Da oggi l'ala sud del Santo Stefano Hospital, dei service multidisciplinare, fino a ieri sistemato al terzo piano del nosocomio. Si tratta di un percorso di assistenza personalizzato e semplificato che garantisce al paziente una rapida presa in carico e una serie di prestazioni ambulatoriali, accertamenti e controlli specialistici in un'unica sede senza la necessità di ricovero. Elemento di raccordo tra l'attività ospedaliere in senso stretto e l'attività del territorio. Un'attività che ha le caratteristiche dell'attività ambulatoriale, ma ambulatoriale complessa. Può essere attivato dal medico di famiglia, dallo specialista e dal pronto soccorso e rivolto a pazienti con patologie di pertinenza neurologica, internistica e di gastroenterologia. La possibilità di confrontarsi in tempo reale con il collega specialista di Alta Branca permette di avere una maggiore efficacia clinica per il paziente e di guadagnare tempo sia nella diagnostica che nella terapia. I locali sono attrezzati con spazi visita, dotati di letti e poltrone, con personale medico-infermeristico dedicato. I pazienti possono eseguire gli accertamenti necessari, le visite, gli esami ematici e strumentali, effettuare le terapie di cui necessitano e ritornare a casa entro poche ore o in giornata. L'aziente viene poi rimandato a casa, viene contattato per avere gli appuntamenti per tutti i vari esami diagnosi che deve fare o eventualmente appunto viene riconvocato se c'è bisogno di fare i trattamenti terapeutici qui da noi. Rispetto alla collocazione precedente, lo spazio è più funzionale. Vicini alla radiologia, alla medicina nucleare, all'endoscopia digestiva e anche alcune strutture ambulatoriali che erogano prestazioni diagnostiche come l'oculista e la neurologia.